Diminuiscono gli infortuni in agricoltura, ma resta alto il numero delle morti rispetto agli occupati. Il servizio. La crisi fa diminuire anche gli infortuni. Infatti i dati INAIL in Piemonte confermano la tendenza degli ultimi 5 anni, con un forte calo delle denunce che quest'anno si assestano a 50.000, meno 9% rispetto al 2011, e 58 incidenti mortali, meno 13,4%. Questo decremento si può attribuire in gran parte alla crisi socio-economica che ha investito il territorio piemontese, e anche tutto il nostro paese naturalmente, e in parte sicuramente anche per l'attività, notevole attività di tutela che l'INAIL ha svolto sul territorio. L'87% degli incidenti avvengono nell'ambiente di lavoro, costanti gli incidenti in macchina mentre ci si avvicina o si è al lavoro. Il 50% sono a carico dell'industria e dell'artigianato, meno pericoloso il terziario, ancora più uomini che donne, e in percentuale più stranieri che italiani. La provincia più esposta, Torino. Il settore più a rischio per occupati è l'agricoltura. Il sistema agricolo è caratterizzato da una molteplicità di aziende, in particolare piccolissime aziende a conduzione familiare, dove il parco macchina è obsoleto. Quindi l'intento è di favorire l'adeguamento anche di questo parco macchina, che è quello che dà più problemi in termini di sicurezza. Infine, anche le malattie professionali, sia pure più lentamente, calano le denunce. Il comparto più esposto è ancora l'agricoltura, che quest'anno risulta il sorvegliato speciale.